Il Vescovo di Pistoia Fausto Tardelli ha lanciato il piano per l'accoglienza a migranti nella diocesi. Il Vescovo, facendo proprio l'invito di Papa Francesco e rivolgendosi alla chiesa pistoiese, ha rivolto un appello all'accoglienza. Un appello a pistoiesi e a famiglie, ma anche alle parrocchie e agli istituti religiosi, perché si rendano disponibili a portare tra le mura delle proprie case i migranti. Si tratterà al massimo di gruppi di quattro persone, un numero pensato per facilitare l'integrazione. Come strumento di supporto, la diocesi ha deciso di istituire un osservatorio permanente sul fenomeno migratorio. Il coordinamento dell'organismo sarà di Caritas ed Ufficio Migrantes. Spetterà a loro raccogliere le informazioni sul fenomeno, così da elaborare via via proposte ecclesiali di intervento. Sul campo opererà quindi un secondo gruppo, che avrà il compito di coordinare l'accompagnamento delle persone nelle famiglie, nelle parrocchie e negli istituti, che saranno coinvolti nel progetto. Per chi arriverà sul territorio, la diocesi proporrà un percorso di integrazione, fatto anche di formazione scolastica e professionale. A questo scopo è stato rivolto un appello ai pistoesi perché si facciano avanti come volontari. La richiesta è di insegnanti in servizio, ma anche in pensione, così come di studenti universitari. Il Vescovo Tardelli ha infine precisato, per fugare ogni minima ombra di sfruttamento di questa situazione, che tutto il denaro messo a disposizione dallo Stato per l'emergenza, per la parte che dovesse venire alla Chiesa, sarà interamente destinato agli stessi poveri.